Giuseppe Pirrone, una bandiera del calcio alcamese, ha toccato vertici altissimi, ricordiamo le sue grandi prestazioni con il Trapani, i suoi gol che hanno consentito la Serie B, ha militato anche nell'Ascola, è l'ultima, una esperienza negativa non per quanto riguarda le prestazioni del giocatore alcamese, ma per quanto riguarda la società. Giuseppe Pirrone si sta allenando in questo momento con l'Alcamo, quali sono le tue prospettive? Innanzitutto sto aspettando un po' questo mercato, se riusciamo a trovare qualcosa di buono, gli ultimi sei mesi e poi via sono andati un po' così, la società ha detto delle cose che poi non ha rispettato e ci siamo trovati un po' svincolati in un periodo, anzi in un momento di mercato un po' delicato. Adesso mi aspetto e mi alleno con i ragazzi, con la società, con l'Alcamo e mi sono dato questa possibilità di darmi qui, conosco un po' di ragazzi e mi tengo un po' in movimento. Hai meritato nel Trapani, un giudizio sul Trapani, i faggiani è andato via, molte cose stanno cambiando, l'anno scorso si è sferato la Serie A, qual è il tuo augurio per la tua XS squadra? Innanzitutto mi dispiace per come si è finita l'anno scorso per Trapani, venendo là a vedere la finale, sinceramente aveva buona possibilità di coronare questo sogno, di toccare la Serie A. Però la società è forte, è solida e penso che farà un buon lavoro. Il direttore sportivo che è arrivato adesso è sicuramente uno competitivo e quindi formerà sicuramente una squadra per far bene anche quest'anno. Quello che mi auguro è che quantomeno possano ripetere i play-off, anche se sarà molto difficile. Ci può già essere una possibilità che tu ritorni a Trapani? Mai dire mai, però attualmente sinceramente non so niente. Mi avveno qua e cerco di darmi in forma e aspetto la chiamata giusta che spero arrivi il prima possibile. Noi auguriamo a Giuseppe Berrone di poter soddisfare questa sua ambizione legittima alla luce della qualità del calciatore che lo scorso anno purtroppo ha vissuto a Pavia una amara esperienza. Il Pavia era stato acquistato da un gruppo cinese, hanno detto subito che dovevano andare in Coppa dei Campioni, poi si è scoperto che non hanno pagato IRPEF, non hanno pagato i giocatori, che sono in mangarotta fraudolenta. E un buongiorno quando è andata la finanza a bussare alle porte del Pavia sono scomparsi. C'è da aggiungere che una recente inchiesta sull'Espresso della settimana scorsa a proposito dell'intervento cinese, il giornalista ha tenuto a sottolineare con dovizia di particolare che in Germania, in Inghilterra e in Spagna non hanno voluto cinesi alla guida delle loro società. L'Italia è un campionato di Serie A molto importante ma è molto debole dal punto di vista economico. Speriamo che i risultati ci siano e auguriamo ancora una volta a Giuseppe Berrone di poter calcare i campi di qualche squadra di Serie B o di Serie A e noi lo seguiremo come ogni anno leggendo le formazioni della squadra in quei mili.